Inizio settimana con Francesco Zampano che naturalmente salutiamo e ringraziamo. Buon pomeriggio Francesco. Grazie, buon pomeriggio a voi. Facciamo il punto della situazione. Naturalmente il 3-3 rocambolesco col Frosinone. Ci può stare ciò che stona e il modo nel quale è immaturato questo risultato? Sicuramente, siamo partiti bene comunque. Andare in vantaggi di tre gol contro una squadra come Frosinone non è mai facile. Siamo partiti bene tre gol, nel secondo tempo siamo scesi con una mentalità diversa dal primo. Un'altra mentalità nel secondo tempo, a cosa ti riferisci in particolare? Non lo so, però eravamo molto lunghi, ma non è colpa dei difensori e anche dei gol presi. C'è un po' tutta la squadra, magari quando dicono che la fase difensiva è colpa dei difensori. Ci vuole aiuto magari anche dei centrocampisti e delle punte. Siete ancora lontano dalla migliore condizione fisica, che è un po' il valore aggiunto nelle formazioni di Zeman? Sicuramente, siamo un gruppo nuovo rispetto anche agli altri anni. Sono tanti ragazzi giovani, quindi è normale che bisogna avere anche un po' di tempo per adattarsi a quello che chiede il mister e anche a livello fisico. Zampano titolarissimo per Zeman, lo abbiamo ascoltato proprio nella dopo partita di Perugia. Passano cinque giorni, Zampano di nuovo in panchina. Che cosa è successo in quel lasso di tempo? Non so, quelle sono scelte del mister, non sono allenatore io, quindi non dico di mettere me. Magari aver visto Crescenzi, anche perché c'è una grande concorrenza, c'è Crescenzi, c'è Mazzotta, Balsano, quindi magari il mister ha visto meglio lui ed è giusto che l'ha messo in campo. Però insomma sei rimasto sorpreso, no? No, il mister è così, non bisogna stupirci di niente. Magari avessi una settimana che si sarà allenato meglio e comunque per la squadra si ha visto che non mi sono allenato bene, è giusto che non mi ha messo comunque. Zeman chiede che i difensori accorcino sempre in avanti e mai indietro. Insomma, chiede una squadra audace e coraggiosa. In queste prime partite in realtà si è visto dell'altro. C'è una squadra che quando si chiude e agisce in contropiede riesce a fare le cose migliori. Sicuramente, il mister chiede anche alla squadra di accorciare molto, anche a noi esterni, di accorciare subito sull'uomo. No, siamo partiti comunque, come dice il mister, poi magari la stanchezza è normale che anche i centrocampisti non danno una mano, le punte non danno una mano, ma è normale, siamo all'inizio e come detto prima sicuramente a breve si vedrà la vera squadra del mister Zeman. È un fatto di mentalità come asserisce lo stesso tecnico Boemo? La mentalità è che bisogna lavorarci. Perrotta è venuta quest'anno e anche se aveva comunque allenato il mister un paio di anni fa, deve accorciare un po' di più, ma come è normale e come tutti i noi difensori. Però ce le metteremo tutte per far sì che avvenga questa cosa qui. Riavvolgiamo per un attimo il nastro, perché è stata un'estate un po' movimentata. Tu già sorridi giustamente perché eri sul punto di essere ceduto, la cessione non si è concretizzata. Ecco, la domanda del tifoso comune è questa. Zampano è rimasto a Pescara con la testa giusta? Certo, io comunque sapevo che c'erano interessi comunque in squadra di Serie A, fa sempre piacere un ragazzo. E niente, sono rimasto qua sicuramente con la testa giusta, meleno sempre al 100%. C'è da metteremo tutte per essere quest'anno in Serie A, come è giusto che sia, anche perché Pescara è una piazza ambiziosa e c'è dei grandi tifosi, è giusto che si fa così. Senti, ma sei rimasto colpito però dalle parole di Giuffredi, insomma è stato durissimo nei confronti del Presidente Sebastiani. Dicci la verità. No, ho letto l'intervista ma non pensavo anche io, sinceramente. Non pensavo, facevo quelle dichiarazioni perché comunque il Presidente è sempre il Presidente, però avrò avuto le sue ragioni, non so che dire. Non mi metto, il procuratore fa il procuratore, faccio il calciatore e non penso alle vicende esterne, non mi interessano. Le vicende esterne che però riguardano l'assistito, in questo caso riguardano te. Non mi hanno toccato nulla, quindi sono tranquillissimi. Non c'hai riparlato con Giuffredi? No, ho detto che andavo in vacanza e basta. Non è che cambi procuratore? No. Senti, adesso c'è la trasferta di Salerno, sabato prossimo stadio Arechi, tra l'altro è già calda, la panchina sembrerebbe proprio così di Alberto Bollini, tecnico dei Campani. Tra gli ex c'è anche Puccino che tu conosci, avete giocato insieme nella stagione 2014-2015 proprio a Pescara. Ecco, facciamo un giochino. Se ti dovesse chiamare Raffaele Puccino in settimana e ti dovesse chiedere ma che squadra è il Pescara? La risposta è Zampano. Non mi chiamerebbe, ho cambiato il numero. Ah, ecco. Niente, è un Pescara che deve ancora dimostrare tantissimo anche perché sono dei ragazzi molto interessanti, anche da altre squadre. Capone è un gran giocatore ma anche altri ragazzi. E niente, noi andremo là sicuramente per fare la nostra partita, per vincere sicuramente e per dare la battosta finale al loro allenatore. Senti, qualche giorno fa in esclusiva per il quotidiano del centro, Proietti, che è quasi tuo coetaneo, vi portate in un solo anno, ha dichiarato testualmente, una volta terminata la carriera, credo di non restare in questo mondo perché non è puro, è solo un vendersi. Parole che meravigliano dette da un ragazzo che ha soli 25 anni. Per Zampano è così? Non avevo letto queste interviste, però non lo so, sono giovane e voglio godermi questi anni al massimo e dar tutto me stesso, anche perché dove siamo arrivati qua penso sia il sogno di ogni bambino, di ogni ragazzo in giro, quindi c'è un tenere stretto e poi ci penseremo. Mancano ancora molti anni, quindi non voglio pensarci. Ma il mondo del calcio è come dice Proietti, non c'è purezza, è tutto un vendersi. Non lo so, non so cosa voglia dire lui, però noi siamo calciatori e dobbiamo pensare al campo, non è che dobbiamo pensare al mondo, cioè se quell'ambito lì è puro o no, quindi non so per cosa rispondere. Tra poco saranno 24 il 30 settembre. Sto invecchiando, sei giovanissimo, è venuto qua quattro anni fa, l'ultimo giorno di mercato tra l'altro che sta a Verona, è passato in fretta il tempo, siamo qui e cerchiamo di, comunque da quando sono qua, siamo andati in finale per l'off, siamo sedi in sera, poi sfortuna per quello che è successo in scordo, siamo scesi e adesso quest'anno speriamo di ritornarci comunque. Grazie Francesco. Grazie a voi, un saluto a tutti. Grazie a voi.